Quanto tempo impieghi per impaginare un catalogo? Bene, ora riduci dell'80%. Questo è il tempo che impiegheresti con OnPage e Easy Catalog. Risparmierai ore, giorni e settimane che potrai investire in altri progetti. OnPage collegato a Easy Catalog, il sistema di impaginazione più veloce che ci sia. Raccogli e organizza le informazioni su OnPage per impaginarle sul tuo catalogo. Scegli i contenuti da impaginare. Crea le tue gabbie grafiche. Trasforma le tue gabbie in template dinamici collegando i contenuti presenti su OnPage. Vuoi sfruttare tutte le potenzialità di questo sistema? Inserisci le regole di impaginazione automatica e lascia fare al plugin Easy Catalog. Hai appena completato il listino e devi già fare un aggiornamento al dato? Nessun problema. Ogni aggiornamento fatto su OnPage si sincronizzerà automaticamente nell'impaginato. Inoltre potrai cambiare lingua e valuta istantaneamente. Richiedi subito una demo.